Questo video riguarda i migliori tre batterie di pentole. Il vincitore della qualità è il WMF Acciaio Inox. I manici cavi con tecnologia cool non si scaldano neanche dopo lunghe cotture. La trasmissione del calore dalla pentola al manico infatti si riduce notevolmente. Tecnologia riconoscibile dal caratteristico bordo rosso. Costituito da un resistente nucleo in alluminio incapsulato nell'acciaio cromato. L'alluminio assorbe il calore rapidamente e lo distribuisce in modo uniforme, per una cottura a risparmio energetico. Adatto a tutti i piani cottura, anche a induzione. Il bordo versatore assicura che i liquidi vengano versati accuratamente e in maniera controllata, senza eccessivi gocciolamenti. Il coperchio ad appoggio con foro consente la fuoriuscita graduale del vapore, evitando che il coperchio si sollevi durante la cottura. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Rosley Globe batteria di pentole. Rosley Globe, batteria di pentole in acciaio inox composta da, pentola per arrosto di 20 cm e pentole di 16 cm, 20 cm e 24 cm, incluso coperchio in vetro, inserto per cottura a vapore di 20 cm. Ogni pentola dispone di una distribuzione e conservazione del calore veloce e uniforme mediante un fondo incapsulato con anima in alluminio. Il bordo a versare arrotondato permette di versare senza gocciolare. Adatte a tutti i tipi di piani cottura. Adatte ai piani cottura elettrici, in ceramica, a gas, a induzione e forno. Realizzata in acciaio inox 18-10, questa batteria di pentole convince per la durata e per una pulizia facile e senza problemi in lavastoviglie. Coperchio in vetro resistente alla temperatura fino a 180 gradi centigradi, acciaio inox 18-10, liscio, lucido satinato, vetro temperato. Il vincitore del premio è l'Agostina Ingenio. Il set di pentole Ingenio Essential è realizzato in alluminio con rivestimento antiaderente e fondo serigrafato antiscivolo, lavabili in lavastoviglie. Garantite 5 anni, 10 anni per i manici. Il rivestimento antiaderente multistrato di alta qualità Meteorite Resistium non fa attaccare i CB, è sicuro e durevole, rinforzato per una maggiore resistenza all'uso di utensili metallici e facile da pulire. Grazie al manico ammovibile, tutti i corpi pentola sono adatti per cotture su gas e al forno fino a 250 gradi centigradi, per la conservazione in frigo e per servire a tavola. I manici rimovibili si adattano a tutte le pentole Ingenio e supportano fino a 10 kg di peso, sono resistenti e affidabili, con 3 punti di aggancio per un fissaggio e una sicurezza totali. La linea è pensata per ridurre gli ingombri. Le pentole si impilano perfettamente, sono facili da riporre e occupano ancora meno spazio grazie al manico ammovibile. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.